Buon pomeriggio, bentornati oggi 20 marzo, domani è primavera. Asperiamo in una nuova primavera per la Juventus. Sono due gli argomenti che voglio affrontare in questo video velocemente. È iniziato oggi, in mattinata, proseguirà poi per tutto il giorno. Sono iniziati i lavori della prima edizione della Juventus Business Forum ospitato all'Allianz Stadium. Un evento che accende ancora una volta i riflettori sui stakeholders, solo quelli che hanno interesse nell'azienda, insomma, quindi nell'azienda Juventus. Un momento importante che continua in questo momento. I lavori continuano. Ha parlato Maurizio Scaravino. Molti di noi si sono chiesti alla società che fa, che non fa. Non ha detto niente di particolare sostanzialmente. Lui è il chief executive officer di Juventus. Oggi siamo in un Allianz Stadium che ha visto tornare in massa i tifosi. Ha detto che abbiamo avuto 15 sold out su 17 partite per una percentuale del 95% dei posti occupati. È onore del vero. Questa è la realtà. Allora dobbiamo aggiungere oltre 500 milioni di tifosi appassionati in tutto il mondo e una fan base digitale che sta crescendo tantissimo. Ora conta oltre 165 milioni di persone. È quanto ha detto Scaravino. Alcuni dei nostri primati. Il primo brand in assoluto in tutti i settori merceologici, in Italia sui social media, top in Europa su Facebook e nel mondo su TikTok, se consideriamo le squadre di calcio, tra le quali siamo in top 5 per crescita, interazione e visualizzazione. Mondo moderno ormai, amici. Sempre su TikTok siamo tra i primi dieci brand mondiali, sempre prendendo in considerazione tutti i settori merceologici. Questi sono indubbiamente i dati digitali importanti. Questa è una linea di performance. Attenzione, faccio notare il modo di affrontare il tema calcio che rende efficace la nostra comunicazione e i vostri investimenti. Inoltre, il prossimo anno parteciperemo anche al Mondiale per Club che è una grandissima occasione di visibilità. Come società stiamo portando a termine l'aumento di capitale, iniziativa fondamentale per porre le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio. Allora, attenzione, qui ci sono i punti che io vorrei sottolineare. E poi arriviamo al tema calcio, al tema Allegri. Piena fiducia, parlando di calcio, che è il nostro core business. Sottolineiamolo perché appunto sono elementi che vanno presi in considerazione dopo, nelle mie considerazioni. Questa stagione è iniziata con entusiasmo e con grande successo di risultati. In questo momento siamo in una fase un po' complicata. Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a tenere quanto meritavamo. Per questo non ci abbattiamo. C'è grande fiducia nella squadra, nell'allenatore. Tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave, per ripartire al più presto e centrare gli obiettivi della stagione in corso, che sono qualificazione in Champions League e raggiungimento della finale di Coppa Italia. Potrebbe dire che magari vogliamo vincere la finale di Coppa Italia troppo in là. Allora, farei due punti per poi affrontare il secondo argomento che riguarda la squadra che in questo momento andrà a vincere il campionato. Abbiamo visto quanto sono importanti, so da fonti abbastanza accreditate che potrebbe, anzi è in fase di chiusura, la tv ufficiale della Juventus, ma i numeri del brand sono importanti. Quindi, come abbiamo citato prima, vuol dire che questa è la nuova strada. Trattare il calcio alla luce della modernità. La modernità e la modernità sono i grandi social del momento, TikTok, Facebook e via dicendo. Settori merceologici, quindi attenzione, scordiamoci il calcio tradizionale. Prossimo triennio, le basi di un progetto di sostenibilità e competitività nel prossimo triennio. Quindi bisogna aspettare ancora tre anni per avere una Juve competitiva e centrare gli obiettivi della stagione in corso. Qualificazione in Champions e raggiungimento della finale di Coppa Italia. Quindi, estrapoliamo da questo discorso i punti che ci interessano. Ormai il calcio è anche fenomeno digitale, con conseguente leadership nel settore, ma anche, insomma, è una cosa diversa rispetto a quella che intendevamo noi. Parliamo dell'Inter, che doveva rinegoziare il debito. Per Zhang si fa più dura a tenere la squadra, e andiamo a vederlo sul Corriere dello Sport. OAC3, che è il famoso fondo, non sarebbe convinta della proposta messa sul tavolo dal presidente Zhang, ma lo scenario può ancora cambiare. Le argomentazioni presentate non sarebbero sufficienti a smuovere la resistenza del fondo americano. OAC3, adesso non vi sto a rispiegare, c'è un video, insomma, dove eravamo stati abbastanza esaustivi, non aveva nei piani di rilevare il club, ma nelle ultime settimane si starebbe attrezzando per affrontare una situazione di questo tipo. Zhang aveva offerto a OAC3 il saldo immediato degli interessi alla scadenza, quindi mi sembra a maggio, 100 milioni circa, e contestuale spostamento della scadenza per restituire tutto il prestito al 2026 o 2027, con un aumento dei tassi di interesse al 16%. Di fronte alla resistenza presente all'Inter si sarebbe detto disponibile ad alzare il tasso anche al 20%, quindi adesso te ne pago di più. Da OAC3 però nessuna apertura, perché magari non si fidano. Da parte del fondo sta prevalendo il timore che con questo tipo di gestione il valore si possa abbassare, complicando ulteriormente la possibilità di individuare un investitore disposto a pagare l'Inter per la cifra richiesta. Quindi Zhang per ora mantiene la fiducia, ma dovrà innanzitutto dimostrare che l'Inter abbia imboccato un percorso destinato a sistemare i conti con i risultati di bilancio, che al prossimo 30 giugno dovrebbero dimezzare le perdite. Ci sarebbe anche la questione stadio, ma non ci dilunghiamo troppo. C'è ottimismo in Juventus, sul calcio come ha detto il brand, il chief executive officer di Juventus Canavino è un momento un po' così, ma ci stiamo attrezzando nei prossimi tre anni, nei prossimi tre anni, per diventare competitivi, confermando la fiducia ad Allegri. Però io questo, insomma, non mi fiderei molto, perché le ultime volte che abbiamo, quando ti fanno troppe lodi oppure ti confermano la fiducia, beh, io ci starei un po' attento. Ci vediamo nei prossimi appuntamenti.